Già Luigi Paragone, Paolo Brosio, Enrico Montesano, Eric Grimaldi, Mario Gallo hanno assicurato il loro sostegno e la loro adesione oggi alla mobilitazione con la quale il raggruppamento cooperativo insieme per la Costituzione attenderà con una mobilitazione che inizierà alle 18 superando molti ostacoli e molti no come quello di allestire un palco in Piazza Dante, sul lungomare Trieste a Salerno, l'esito del Consiglio Disciplinare dell'Ordine dei Medici di Salerno che ha convocato il dottor Gerardo Torre dopo l'apertura di un procedimento disciplinare nei confronti del camice bianco. Secondo le associazioni che oggi manifesteranno l'Ordine vuole bloccare Torre per aver aspramente criticato in pubblico l'uso di protocolli ministeriali a base di vigile e attese tachipirina. Per le associazioni No Green Pass Salerno, Ancora Italia, Fisi, Libera Scelta, Liberiamo l'Italia, Liberazione, Federazione, Terza Repubblica, Umanità e Ragione, Stop 5G, Salerno, questi protocolli sono inutili e in molti casi dannosi perché hanno favorito a loro dire l'insorgenza di complicanze e ospedalizzazioni. A spiegarci le ragioni della mobilitazione di oggi è stato Gian Paolo Califano. Durante tutta la pandemia ci ha spiegato il dottor Torre ha scelto un'altra strada, quella di andare tempestivamente a casa dei pazienti per visitarli, curarli e rassicurarli, mettendo in atto le terapie domiciliari precoci, arrivando così ad assistere circa 3.000 pazienti. Ed ora Gian Paolo, insieme ad un gruppo di persone che non vuole essere definiti Novax, è pronto a sostenere le ragioni del medico e che per loro ha un'unica colpa, quello di aver tenuto fede al giuramento di Ippocrate e aver messo in atto la sua missione di medico. Il motivo è il sostegno al dottor Gerardo Torre, che è un medico che conosco personalmente da mesi e che in questo tempo di pandemia ha deciso di praticare fino in fondo la sua missione di medico e di persone che ha giurato sul giuramento di Ippocrate. Questo significa che lui si è recato personalmente a soccorrere, visitare e curare più di 3.000 pazienti in Campania e riuscendo a curarli e a guarirli tutti, laddove purtroppo molti di questi pazienti si sentivano letteralmente abbandonati e disorientati e molto purtroppo ha contribuito a crearlo questo problema. I protocolli ministeriali della famosa vigile attesa e tachipirina che purtroppo ha fatto sì che molti pazienti si aggravassero e a causa dell'enorme afflusso negli ospedali purtroppo questo ha creato seri problemi e anche in diversi casi l'esito fatale. Voi avete messo insieme con un movimento spontaneo una serie di sigle, potete essere definiti NOVAX? Assolutamente no, noi siamo per la tutela dei diritti e libertà garantiti dalla Costituzione, siamo per la libertà di cura, siamo per la libera scelta da parte dei pazienti, da parte dei cittadini, quindi per tutelarla. Chi pienamente informato desidera vaccinarsi è libero di farlo, chi pienamente informato decide in accordo con il proprio medico curante di non farlo, può non farlo. Noi tuteliamo le libertà costituzionali. Chi vuole essere con voi, dov'è l'appuntamento? Bene, tutta la cittadinanza è invitata a sostegno del Dottor Torre, il quale invece di ricevere un premio per quello che ha fatto purtroppo è stato richiamato dall'Ordine e rischia un procedimento disciplinare molto serio. Qui noi confidiamo nella saggezza dell'Ordine e quindi noi saremo a suo sostegno in Piazza Dante, Piazza Dante Alighieri, lungo Mare Trieste, con questo incontro pubblico di solidarietà che partirà dalle ore 18. Siete tutti invitati.